salvatore roberti capitano della pallavolo jolly 5 frondi vittoria netta vittoria perentoria in una gara che se non decisiva comunque fondamentale per il vostro cammino sì vittoria sicuramente decisiva io ci tengo a fare complimenti al mister di vibo per quello che fa coi ragazzi perché io non so perché questo sport è stato sempre appassionato dai stranieri però io sinceramente sono italiano e qualche anno in seriale ho fatto vedere gente come corrado e tanti ragazzi così talentuosi a me sinceramente fa piacere ti fa onore salvatore roberti oltre per le indubbie qualità tecniche e fisiche da capitano le parole che hai detto tornando alla partita una cinque fronti che non ha mai avuto problemi guardi è una cinque fronti hanno avuto problemi loro sono voi siete molto forti fisicamente noi dovevamo essere bravi a colmare un po di gap di centimetri e fisico come era naturale che fosse siamo stati bravi abbiamo battuto bene murato discretamente e il contrattacco è andato in maniera comunque positiva cinque fronti non si nasconde una realtà ormai che punta in grande che punta la serie a salvatore roberti che punta il suo poker personale dopo le tre promozioni dalla b alla 2 insomma ci credete roberti guardi noi ci abbiamo sempre creduto sicuramente il livello non è più di quello di qualche anno fa questo è in dubbio e lo vedete tutti e lo vediamo tutti però sì sì ci crediamo fino alla fine tanto a noi non costa nulla noi lavoriamo con umiltà durante la settimana quindi come come spesso succede ci sono partite buone e meno buone parlavi dei giovani di vibo parliamo un attimo dei giovani di cinque fronti dall'agnol borghetti che sono si stranieri ma sono dei talenti però io personalmente ho visto e ho apprezzato la crescita di samuele aprile guardi samuele è venuto due anni da noi che è il ragazzo che è migliorato più di tutti che fa che si allenava in serie di penso con le ragazze quindi stiamo parlando veramente gente che la società ha preso dal dal nulla e matteus ha avuto una crescita importante spero per lui che riesca a migliorare un po la palla alta perché secondo me può fare qualche può fare una categoria in più senti una domanda chiudo che facciamo a tutti i nostri giocatori italiani e stranieri che vengono per la prima volta a vibo tu da romano che hai giocato al sud soprattutto in puglia è il suo è il tuo secondo anno a cinque fronti come ti trovi in calabria come ti trovi a cinque fronti guardi io al sud sono sempre trovato benissimo non è un caso nelle città vicino al mare faccio i miei migliori campionati per me il sud italia è stato un po bisfrattato negli ultimi 30 40 anni da malapolitica però che vogliamo dire sotto a roma è un paradiso grazie roberti in bocca al lupo crepi in bocca al lupo a voi